Notizia di Prato Tg, a tutti buonasera, le telecamere di Striscia la Notizia a Prato per far vedere i cani allevati abusivamente e le pessime condizioni nelle quali vengono tenuti. È partita subito un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente, l'ha presentata il Senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio Lapietra. Sentite. Cani di grossa taglia messi a guardia delle aziende cinesi e in moltissimi casi tenuti in cattive condizioni. L'ultimo fatto è stato documentato dalle telecamere di Striscia la Notizia, che ha scoperto non solo questa osanza ormai consolidata, ma all'interno di un capannone nella zona industriale del macrolotto ha anche un vero e proprio allevamento abusivo di cani di diverse razze. L'inviato di Striscia, Edoardo Stoppa, accompagnato dalle guardie zoofile di Hearth Italia Prato, ha puntato le telecamere su molti cani con le orecchie mutilate, intervento che danni la legge non consente più se non per scopi strettamente terapeutici e che richiama pratiche illegali. Le verifiche hanno accertato l'assenza di microchip e di tutti i documenti obbligatori per la tenuta di un cane. Sull'argomento è intervenuto il Senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio Lapietra, che ha inviato una interrogazione al Ministro dell'Ambiente Sergio Costa per sollecitare soluzioni a un fenomeno finito più volte sui giornali e in tv e che non è più soltanto pratese. Stiamo parlando, si legge nell'interrogazione, di fatti non sporadici ma quotidiani e gravi, animali resi aggressivi dalle condizioni orribili nelle quali sono costretti. Non è un caso che un bambino cinese sia stato aggredito da un labrador. In che tempi, chiede il Senatore di Fratelli d'Italia al Ministro, si intende intervenire e soprattutto come? Una soluzione sollecitata anche per dare respiro alle guardie zoofile, oberate di segnalazioni di maltrattamento ma prive di strumenti in grado di mettere al sicuro gli animali definitivamente. Sui cani maltrattati si registra anche l'intervento di Aldo Milone, candidato sindaco di Prato Libera e Sicura. A febbraio il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il sindaco a creare un coordinamento composto da municipale, guardie zoofile e ufficio tutela animali. Sono passati tre mesi, il commento di Milone. Quell'ordine del giorno è rimasto carta. Chiusi in una stanza di 20 metri quadrati al buio e in un fetore insopportabile causato dalla presenza di feci e urine che coprivano completamente il pavimento della stanza. Queste le condizioni in cui le guardie zoofile dell'OIPA di Prato hanno trovato dieci cani, di cui sette cuccioli e un'adulta incinta a Vaiano. Si tratta dell'ennesimo intervento contro il maltrattamento degli animali in provincia di Prato. L'operazione delle guardie zoofile dell'OIPA risale a novembre, ma solo ora è stata resa nota quando quasi tutti gli animali hanno trovato una famiglia in grado di accoglierli. Le guardie zoofile hanno effettuato un sopralluogo presso un'abitazione privata, dove hanno dovuto ricorrere alle torce per visionare l'ambiente, dato che era stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica. Evidente la situazione di sporcizia e degrado in cui erano costretti a vivere gli animali. Nel locale c'erano dieci cani e neanche una finestra e in più soltanto una vasca di acqua putrida. Dalle indagini è emerso che i cani, per stessa missione della proprietaria, non erano mai usciti dalla stanza e vivevano reclusi da mesi. Provenivano tutti dalla provincia di Bari, arrivati in Toscana tramite un servizio di staffette, la cui irregolarità è ancora tutta da accertare. La Polizia Municipale di Prato ha scoperto un altro falso dentista cinese in un immobile in via Filzi. Il blitz è avvenuto questa mattina in un appartamento al primo piano di una palazzina. L'uomo, 50 anni, è stato sorpreso a prestare cure odontoiatriche a un connazionale clandestino senza alcuna autorizzazione alla professione medica. Il falso dentista, che indossava mascherina medica professionale e camice, è stato trovato nel pieno della sua attività. La stanza adibita all'ambulatorio in realtà era la cucina. Le indagini della Polizia sono partite giorni fa dalla raccolta di alcuni biglietti pubblicitari lasciati negli esercizi pubblici del macrolotto in cui appunto veniva pubblicizzata questa professione. Due furti sventati in altrettante abitazioni grazie a un testimone che ha avvertito la Polizia. È successo all'alba di ieri in via Argine dell'Ombrone, intorno alle 5.50. La questura ha inviato sul posto tre volanti dopo la segnalazione di tre persone che stavano cercando di forzare le porte di ingresso di due appartamenti. I tre malviventi, appena si sono accorti della presenza della Polizia, si sono allontanati a piedi e solo uno è stato bloccato. Si tratta di un albanese di 39 anni pregiudicato. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato in concorso con altre due persone che la Polizia sta cercando di identificare. Nell'intervento sono stati sequestrati numerosi attrezzi da scasso. Lasciamo la cronaca. Nuove case ad affitto calmierato in via Di Gello, 72 appartamenti, con un canone di affitto compreso tra 350 e 500 euro al mese. Sentite Leonora Barbieri. Inizieranno a luglio in via Di Gello i lavori per la costruzione di 72 alloggi destinati all'affitto a canone calmierato. Tra 24 mesi saranno disponibili trilocali e quadrilocali a prezzi che vanno da 350 a 500 euro al mese, ossia il 20% in meno dei patti territoriali. In più, dopo 15 anni, l'inquilino avrà una prelazione sull'acquisto dell'immobile a un prezzo già fissato a 1.850 euro al metro quadrato da una convenzione urbanistico-sociale. Tali agevolazioni sono possibili grazie al terreno edificabile messo a disposizione dal Comune per realizzare case che intercettino la cosiddetta fascia grigia di popolazione. Con gli oneri o con quel terreno comunque abbiamo potuto fare degli investimenti, però in questo momento ci rendiamo conto che la casa, l'abitazione è uno dei problemi sussentiti. I dati sono stati detti. Per ogni appartamento ad affitto calmierato c'è 10 richieste. Quindi noi soddisfiamo veramente un decimo delle richieste che ci sono sia a Prato che a livello nazionale. Perciò abbiamo fatto questa valutazione e abbiamo deciso che rinunciare a complessivamente intorno a 3 milioni di euro fra valore del terreno e eventuali oneri generati da quel terreno potevano essere un valido investimento per dare a tante famiglie l'opportunità di fare una vita. L'operazione è frutto di una sinergia tra pubblico e privato che vede insieme la Fondazione Casa del Risparmio di Prato, Abitare Toscana, il Fondo Housing Toscano e Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo FIA per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Chi è interessato agli alloggi in via di Gello può chiamare già dalla prossima settimana Abitare Toscana allo 0574742710. Il tetto massimo di ISEE è di 38.734 euro e il valore dei beni immobili non deve superare i 40.000 euro. Ovviamente non si deve avere alcuna casa intestata. Parliamo di politica. Il candidato a sindaco del centro-destra Daniele Spada ha presentato il suo piano sulla sicurezza, detto cioè quali sono i progetti che metterebbe in campo se venisse eletto. Sentite ancora Eleonora Barbieri. Più agenti della Polizia Municipale sul territorio attraverso nove assunzioni, meno persone in ufficio e presidi fissi nelle cinque circoscrizioni, potenziamento dell'illuminazione, della videosorveglianza pubblica, riattivazione di un assessorato specifico sulla sicurezza. Sono le proposte che il candidato sindaco del centro-destra Daniele Spada ha presentato oggi a 48 ore di distanza dall'incontro con il ministro dell'interno Matteo Salvini che sarà in piazza del comune sabato pomeriggio. Gli chiederò, e ne abbiamo già parlato, e lui si è dichiarato disponibile, un maggiore impegno del ministero dell'interno in termini organici da parte delle forze di pubblica sicurezza. Sono sicuro che ci troveremo d'accordo. Spada parte da due grandi gap che dividono Firenze e Prato, nonostante la superficie sia quasi identica, ma il numero dei reati predatori veda la città laniera tra le peggiori d'Italia. Il rapporto per quanto riguarda le telecamere e la videosorveglianza è di 400 telecamere su Firenze e di 140 su Prato, su una superficie comunale sostanzialmente identica. Mentre per quanto riguarda gli organici della Polizia Municipale, a Firenze hanno un agente ogni 475 persone, noi ne abbiamo uno ogni mille. Quindi se diventerà sindaco la prima cosa che farà? Sarà intanto creare un assessorato, anzi ricreare l'assessorato specifico alla sicurezza, cosa che Biffoni, il candidato del PD, ha tolto. Noi crediamo che ci debba essere un assessore che si occupi esclusivamente di questo. Poi dopo aumenteremo il numero delle videocamere, lavoreremo per aumentare il numero degli agenti di Polizia Municipale e aumenteremo anche l'illuminazione. Prato è una città buia, sia nel centro che nelle periferie. C'è necessità di illuminazione perché si sa che nel buio certi episodi avvengono con molta più facilità. Dalle 10 alle 19.30 a Officina Giovani sabato e domenica prossima torna un appuntamento molto atteso, sentite quale, da Barbara Becchi Manzi. Fumetti, giochi di ruolo e videogame, ma anche cosplay, mostre e conferenze. Tutto questo e molto altro in programma questo sabato e domenica al Prato Comics & Play. La settima edizione della fiera si terrà negli spazi di Officina Giovani in Piazza dei Macelli dalle 10 alle 19.30. Il tema scelto per quest'anno è un omaggio alla figura dell'antieroe, personaggio imperfetto ma carismatico, in cui il pubblico si riconosce tanto facilmente. Gli ospiti in programma sono circa 20. Nello spazio dedicato ai fumetti sarà possibile incontrare svariati illustratori, più o meno noti. Primo tra tutti Marco Mastrazzo. La sezione Play ospiterà invece ben due ludoteche, dove i visitatori potranno sfidarsi in giochi da tavolo, giochi di ruolo e carte. Abbiamo puntato molto sull'idea di intrattenimento, quindi è stata messa un po' da parte la competizione per dare un attimino più spazio a quella che è la libera fruizione di tutto ciò che è in fiera. Quindi diciamo che è una fiera a tutto tondo per tutti. Molto interessanti anche lo spazio Pratotipi, un laboratorio per sviluppare il proprio gioco da tavolo e il raduno del progetto Gioca Ruolando, che punta l'utilizzo didattico del gioco di ruolo nelle scuole. Non mancheranno poi l'escape room, la gara di cosplay, un'area dedicata ai videogame e uno spazio per i più piccoli. Cosa significa per Prato ospitare un evento del genere? Significa ripercorrere un filo di una relazione con il mondo dei comics che Prato ha sempre avuto storicamente e che grazie a più Prato e al Comune di Prato negli ultimi cinque anni si è riannodato. L'invito è venire a Officina Giovani dalle 10 alle 19.30 per sabato e per domenica. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci.